Kiss me on my eyelids, make that news go away. Kiss me on my forehead, make everything okay. Ah, ecchè d'è! Sì? Mino! Uh, eccolo. La mostra dieta grea? Perché no? I biglietti li ho già presi io. Bravo! Oh, bello quello! Sì, anche per me. Sì, Elisee, subito dopo la mostra, muove la lingua da marchi. Qui ricava bene. E' un culetto, bello pittura. Una festa? Oh no! Yeah! Stasera cena da fo'. Wow! Sofì! Allora ti piacciono i miei spaghetti? Allora ti piacciono i miei spaghetti? Ciao! 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 Che film guardiamo? Secondo te? E Marco com'è? Marco un po' lento. Fui più calmo. Cri è sensuale. Luca è stato veloce. No, Vicky è fraccio. E Nino com'è? Ma Nino viene troppo in fretta. E Gigi è carino. E Connor? Beh, al Connor non gli tira. Bla 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 bla. Va bene, ciao! Ciao!